Ciao a tutti orchetti, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo money glitch urgente per avere qualsiasi auto e qualsiasi veicolo gratis, duplicandolo da un vostro amico. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram e sulla pagina Facebook, trovate i link in descrizione, e lasciare un bel pollice in su a questo video. Grazie a tutti quelli che lo faranno. E iniziamo subito! Per eseguire questo glitch dovete essere in una sessione solo a inviti, poi dovete avere una qualsiasi base operativa, all'interno della base operativa ci dovrà essere parcheggiata una LG RH8 e la base operativa dovrà essere piena. La base operativa dovrà essere per forza piena di auto e di veicoli parcheggiati al suo interno. Fuori dalla base operativa ci dovrà essere il vostro amico che vi passa l'auto o il veicolo, con a fianco l'auto o il veicolo che volete farvi passare. Se volete sfruttare questo glitch come un money glitch per fare soldi, vi consiglio di farvi passare un'auto custom, modificata al massimo all'officina di Venice. Oppure potete farvi passare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo che non possiedete e non potete acquistare su GTA Online, avendo così tutte le auto e tutti i veicoli gratis. Fuori dalla base operativa, voi che state eseguendo i glitch, dovete avere una qualsiasi moto che avete in un altro garage. La moto non la perderete, perciò potete utilizzare qualsiasi moto. Ripeto che questa moto dovrà essere all'interno di un altro qualsiasi garage e non all'interno della base operativa. Poi dovete avere il centro operativa mobile con il deposito veicolo personale al suo interno e dovrà essere vuoto, senza auto e senza veicoli parcheggiati al suo interno e il centro operativo mobile dovrà essere parcheggiato vicino alla base operativa. A questo punto potete iniziare ad eseguire i glitch. La prima cosa che dovete fare, voi che state eseguendo il glitch, dovete salire sulla moto e con la moto dovete accelerare verso il cerchio giallo della base operativa. A questo punto uscirà questa schermata con scritto base operativa piena. Quando sarà comparsa questa schermata nera, voi che state eseguendo il glitch, non dovete premere alcun tasto, ma dovete rimanere in questa schermata. Il vostro amico, l'amico che vi passa l'auto o il veicolo, nel mentre con l'auto o veicolo che dovrà passarvi, dovrà venire addosso a voi facendovi posizionare dietro al centro operativo mobile, precisamente dove ci sta il cerchio azzurro per entrare nel com. Quando voi che state eseguendo il glitch sarete posizionati dietro al centro operativo mobile, dove c'è il cerchio azzurro del com, di questo dovete farvi avvisare dal vostro amico. Voi che state eseguendo il glitch, dovete premere X e poi subito dopo freccia destra. Dovete fare ciò velocemente X e poi freccia destra. Funziona anche su Xbox One, perciò su Xbox One premete A e poi freccia destra. Quando eseguite il passaggio dove dovete premere X o A e la freccia destra, dovete premere il tasto X o il tasto A e la freccia destra una sola volta. Non premere i tasti più volte più di una volta, altrimenti il passaggio non funzionerà. Fatto ciò, se avete svolto questo passaggio correttamente, a questo punto potranno succedervi due cose. O ci sarà una schermata nera con in basso a destra un cerchio bianco, che sarebbe il cerchio del caricamento, però senza la scritta caricamento. Oppure, come è successo a me, ci sarà una schermata nera e in basso a destra ci sarà scritto caricamento con a fianco il cerchio bianco del caricamento. Se ci sarà la schermata nera e in basso a destra ci sarà solo il cerchio bianco del caricamento, senza la scritta caricamento, il gioco vi farà sponare dopo qualche secondo e appena sarete sponati su GTA dovete farvi uccidere dal vostro amico. Se succederà come in questo caso è successo a me, se ci sarà la schermata nera e in basso a destra ci sarà scritto caricamento con il cerchio bianco del caricamento, il caricamento e la schermata nera dureranno all'infinito. Il vostro amico dovrà uccidervi e quando il vostro amico vi avrà ucciso scomparirà in basso a destra la scritta caricamento. Ci sarà solamente il cerchio bianco del caricamento e dopo pochi secondi vi farà sponare soggetti A. A questo punto dovrete salire sull'auto o il veicolo del vostro amico. Se vi comparirà subito l'avviso con scritto base operativa piena dovete premere X o A per accettare, altrimenti recatevi dove c'è il cerchio giallo della base operativa e confermate l'avviso dove vi dirà che la base operativa è piena. A questo punto sostituite l'auto o il veicolo del vostro amico con la LG RH8 che avete nella base operativa. Fatto ciò avete già duplicato l'auto o il veicolo del vostro amico. Ovviamente il vostro amico non perderà l'auto o il veicolo ma la sua auto o il suo veicolo sponerà vicino a lui. Quando avete duplicato l'auto o il veicolo del vostro amico dovete per forza chiudere l'applicazione, quindi uscire dal gioco e riavviare il gioco in quanto se non chiuderete l'applicazione, quando uscirete dalla base operativa con l'auto o veicolo del vostro amico che avete duplicato, vi farà uscire dall'auto e non vi farà più rientrare. Dopodiché entrate in una sessione, potete vendere l'auto che avete duplicato al vostro amico se avete duplicato un'auto lowrider per guadagnare i big money oppure potete tenervelo, avendo così l'auto o il veicolo gratis. Nonostante i requisiti che dovete avere per eseguire il glitch, questo glitch è molto semplice e veloce da fare. Se avete i requisiti necessari per poterlo eseguire, vi consiglio di farlo al più presto, prima che venga facciato, così da avere auto e veicoli gratis e farvi qualche soldo, sfruttando questo glitch come un money glitch. Quando questo glitch o money glitch sarà facciato, scriverò facciato nei commenti sotto al video e bloccherò il commento in alto, così che il commento sarà visibile a tutti. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando seguitemi tutti su Instagram, sulla pagina Facebook, trovate link in descrizione, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da OurCoverd è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, bella!